Torna a Teramo come ogni anno il classico appuntamento con la fiera di San Giuseppe previsto per domenica il 17 marzo. Assessore Mario Cozzi, quali sono le novità per quest'anno? Ma per grosse linee non ci sono novità importanti, diciamo che sono degli appuntamenti ormai classici e consolidati del nostro territorio. Devo dire sempre molto partecipati dal pubblico che ormai si è consolidato, un interesse consolidato per queste attività ma anche e soprattutto perché è un momento di socializzante per le famiglie, visto anche l'area che ormai consolidata abbiamo creato in Piazza Orsini per i bambini e abbiamo ormai consolidato anche un'altra idea progettuale che è quella legata ad artigiani di hobbisti del nostro territorio che insieme ai prodotti alimentari e tipicità del nostro territorio espongono e vendono su Piazza Martiri. Diciamo così che l'idea di anticiparla viene anche un pochettino dalle sollecitazioni degli operatori stessi perché nell'arco della settimana sui giorni feriali ci sono già delle realtà fieristiche e di mercato consolidate. Un ulteriore motivo è quello che nel giorno festivo c'è meno congestione sul traffico cittadino e anche perché non lavorando, essendo un giorno festivo tutti possono avere l'opportunità di partecipare e di visitare anche la nostra città. Ricordiamo che la fiera è partecipata anche da Inunteramani, quindi da tutta la regione Abruzzo. Quindi è un riscontro territoriale. Adesso non so se può essere definito a carattere regione, sicuramente a carattere provinciale. I numeri sono sempre buoni ed è anche un appuntamento in un momento di grosse difficoltà sia per gli operatori ambulanti ma anche per quegli operatori in sede fissa che vorranno rimanere aperti nel giorno di domenica.